Roma celebra alla passeggiata archeologica l'anniversario del Corpo di Pubblica Sicurezza. Scortato dai corazzieri, il Capo dello Stato è giunto accompagnato dal Ministro Scelba, dal Capo della Polizia Generale D'Antoni e dall'Ispettore del Corpo Generale Galli per presenziare la grande rassegna delle forze dell'ordine. Dalla tribuna d'onore dove hanno preso posto le autorità e gli eletti militari, il Presidente della Repubblica assiste all'imponente sfilata degli uomini e dei mezzi. Tutte le specialità sono qui rappresentate, i battaglioni allievi, una sezione guardie cinofile, reparti di guardie addette alle frontiere in tenuta di sciatori. Li seguono i plotoni motociclisti della Polizia Stradale con speciale equipaggiamento, reparti mobili con autoblinde, il primo reparto celere su gips, il nucleo celere di Roma dotato di impianti radio. Manifestazione di ordine e di disciplina, prova concreta di quello che Inaudi ha definito un elevato spirito e una salda efficienza delle forze di polizia per la tutela dell'ordine.